Noi di Vera TV vi raccontiamo una favola, anzi una fiaba, non quella del 1843 del buon vecchio Andersen sul brutto natroccolo. Vi raccontiamo una favola moderna. Siamo a Terramo nel 2018, abbiamo un paio di cigni bianchi, un paio di cigni neri. È la metafora dell'autostima che aumenta in una città che sta decadendo attraverso la ricostruzione e attraverso quella che dovrebbe essere la ricostruzione. Siamo nell'epoca del post terremoto e un assessore come Baldo di Buonaventura decide di fare un'operazione in memoria, quella di riportare i cigni a Terramo e di ridare dignità in un luogo che era diventato luogo di spaccio. Ora è luogo di famiglia, quelle famiglie che hanno cacciato via gli spacciatori e hanno adottato i cigni, le germane, le carpe, le papere, le tartarughe e hanno ripopolato degnamente quello che era il vecchio orto botanico di Terramo. Le immagini sono eloquenti, guardate bene, Baldo di Buonaventura libera il cigno che raggiunge la mamma, la mamma separata perché non siano ritrovati. Ed è una favola moderna che diventa analogia e metafora di quella che diventerà Terramo a breve, il vero capoluogo di provincia. E ovviamente il saluto a Vera TV non poteva essere che delle nostre carissime amiche, sono le nostre prime telespettatrici. E' cambiata l'aria. Un attimo che facciamo beccare i microfoni per la TV.